Si è svolta nel weekend la manifestazione Sportiviamo a Villanova di Campo Sampiero. A scendere in piazza sono state le associazioni sportive del territorio che hanno mostrato e fatto conoscere le proprie attività. C'erano proprio tutti gli sport, dai più classici come il calcio, la pallavolo, il basket e il tennis, a equitazione, judo, tiro con l'arco, scherma, ginnastica artistica, per passare a quelli meno mainstream come il kung fu o il beat tai chi o il krav maga. A provarli sono stati centinaia di ragazzini del territorio. Iscrivendosi ricevevano un cartoncino con tutti gli sport disponibili e chi ha avuto la costanza di testarli tutti è stato incoronato poi come campione di Sportiviamo. Presenti alla manifestazione le rappresentanze istituzionali comunali e gli sportivi del territorio. Durante tutta la giornata si sono svolte inoltre le dimostrazioni delle manovre di primo intervento a cura della Croce Rossa italiana di Vigo d'Arzere. Sfiscia Marciao nel News, Villanova di Campo San Piero.